Ciao a tutti gli appassionati di astronomia in tutto il mondo. Siamo di nuovo con un altro episodio entusiasmante. Oggi continueremo a esplorare il viaggio incredibile del telescopio spaziale James Webb nella sua ricerca delle prime galassie dell'universo. Recentemente, il James Webb ha fatto una scoperta notevole identificando due delle galassie più lontane mai conosciute. Se le classificassimo, queste galassie occuperebbero il secondo e il quarto posto nella lista delle più lontane dell'universo. Questa scoperta avvincente è avvenuta durante il programma JWST Uncover, che utilizza lo strumento NPEC e la telecamera NC del James Webb per osservazioni ultraprofonde prima, dell'era della regionizzazione. Gli astronomi hanno puntato il telescopio verso l'ammasso di galassie noto come Abel 2700, 44 o Pandora, famoso per i suoi effetti di lente gravitazionale. Analizzando le piccole galassie nell'ammasso, i ricercatori hanno identificato due galassie nell'universo primordiale, un periodo in cui l'universo aveva solo 330 milioni di anni. Tenendo conto dell'espansione dell'universo, queste galassie sarebbero a 13,4 miliardi di anni luce dalla Terra, o, espresso astronomicamente, con Z uguale 12. Queste galassie sono notevoli per il loro comportamento distintivo, con una di esse leggermente più allungata, il che incuriosisce gli astronomi. È importante sottolineare che, nell'universo primordiale, le galassie erano molto più piccole rispetto a quelle odierna. Una di queste galassie appena scoperte ha solo un diametro di 2000 anni luce, a differenza dei 100 mila anni luce della Via Lattea. Questa scoperta offre opportunità uniche per studiare la formazione delle prime galassie e l'evoluzione dell'universo. Gli astronomi hanno utilizzato la spettroscopia per confermare le distanze delle galassie, riducendo 60 mila fonti di luce a 700 candidate e identificandone infine 8 come potenziali tra le prime galassie dell'universo. Il James Webb continuerà la sua missione, svelando i segreti del cosmo e migliorando la nostra comprensione dell'origine e dell'evoluzione dell'universo. Ringrazio tutti per essere di nuovo con noi. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e condividere per sostenere la divulgazione scientifica. Alla prossima!